Ciao, prova, 1, 2, 3. Buongiorno, non credo che riuscirò a collegarmi con voi per la videoconferenza perché sono qui e per le videochiamate diventa un po' complicata. Ho pensato di mandarvi un piccolo contributo a proposito di una serie di attività che si possono fare a distanza. Grazie a tutti.